ciao io sono marcia sedoc ma vi ricordate cacao meravigliao ecco ma io mi trovo qui un posto bellissimo sono a manziano manziano dove sono nell'interno del cartoon village io sono tutte insieme sono diventato ritornata a essere bambina e ieri sera sono stato qui già ospite stavo in giuria è stata veramente una cosa bellissima a vedere questi cartoon che hanno fatto questi ragazzi veramente per me hanno vinto tutte quante bravissimo allora io vi invito di venire qui ma venite già questa sera a trovarci stasera e anche domani stasera io cantorò le sigle della trasmissione indietro tutto insieme con il cartoon band allora io vi aspetto per venire i piccoli e anche i grandi un bacio tanti baci colorati da marzia serocca cartoon village dice una regola sola divertirsi fino a che parte la ola fino a che parte la ola